E una delle cose che giravano un po' di più su di me è, ma sì, scrivere le canzoni è sempre su pochi accordi. Per cui io dissi, vabbè, adesso scrivo una canzone in cui uso tutti gli accordi di me. Cioè, non ne mancherà neanche una, vediamo se se ne accorgono. Giocai anche su questa roba e venne fuori certe notti e la cosa paradossale fu che, ricordo ancora, quando uscivi quella canzone, ancora una volta un giornalista disse, Liga Bue, c'è, la canzone è bella, ma ancora una volta è sui soliti due accordi. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo, questo vuol dire nuova, incredibile, aggiungerei, chiacchierata. Restate lì, non vi muovete, perché è davvero bello quello che sta per succedere. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e vi va, iscrivetevi a questo canale, se ci state ascoltando invece su Spotify. Grandi, continuate a farlo anche lì, ci si può ascoltare, ci si può vedere, utilizzate tutti i sensi per la chiacchierata che sta per arrivare, perché attenzione, signore e signori dal Basement, è passato Luciano Liga Bue. Tutto vero, tutto vero, cioè sei tu, sei effettivamente tu? Giuro. Giuri? Allora, la prova, la voce è la prova definitiva, la prova definitiva. Sì, è un timbro abbastanza riconoscibile, è vero, è vero. Diciamo, c'è chi prova a imitarti, c'è chi prova a imitarti. C'è chi ci riesce anche bene. Vabbè, ma allora ti chiedo su, chi è secondo te colui che imita meglio Luciano Liga Bue? Il migliore di tutti è Pierfrancesco Favino, che durante le riprese di Da 0 a 10, mi prese per il culo parecchio, ma lui è sempre stato il più efficace di tutti, quello in cui diceva, beh, ha proprio beccato ogni cosa, compreso i tic, compreso anche i miei tic. Pazzesco. Ricordo che all'epoca, non so per quale motivo, giravo in tuta e avevo il tic di controllare di non aver perso il portafoglio della tasca dietro, quindi lui costantemente girava facendo questo gesto qua. Che l'aveva captato subito. Beh, giustamente Favino, sa il suo mestiere. Lo sa fare molto bene, grazie davvero, è un onore incredibile poter fare questa chiacchierata con te. E peraltro ti vedo in forma super. Sono in forma discreta, dai, per i miei 26 anni. Beh, dai, sei stato compiuto anche da poco, quindi insomma. Beh, ma ti alleni? Com'è la tua… No, io faccio… cioè mi alleno, sì, mi alleno facendo corsa. Corro tutti i giorni, è una sessione di quasi 10 chilometri quasi tutti i giorni, che vuol dire che ho le articolazioni a Aramengo, che fra un po' ci saluteranno. Maledetto, cioè tendiniti e roba del genere, però è sempre stata la fonte di equilibrio sia fisico che psicologico, che anche di umore, negli ultimi 25 anni di sicuro. È quella cosa che ti fa staccare un attimino, ti fa concentrare. Ma sai, c'è soprattutto il discorso delle endorfine. Le famose endorfine da corsa, effettivamente quelle sono un grandissimo riequilibratore dell'umore, fanno la famosa pulizia del solaio e quindi sì, io lo consiglio, è un'ottima attività. E devo dire che quella sensazione di quando è appena finito di correre, che ti fai la doccia, eccetera, è una roba impagabile. Sì, sì, ma che te la porti dietro anche durante la giornata, quindi sarebbe meglio farlo la mattina. Ok, tra l'altro so che tanta gente ci ascolta anche correndo, quindi magari gli abbiamo dato un piccolo boost, non lo so, qualcosa del genere. Siamo con voi. Beh, ti vedo in forma fisicamente, ma anche insomma di energia, non lo so, mi sembri... È un bel momento? Sì, è un bel momento, è un bel momento in generale, nel senso che da un punto di vista personale, familiare, insomma, sai, non è sempre così facile che tutte le cose si incastrano bene, anche professionale. Adesso sto lavorando, oramai si sa, nel senso che oramai l'ho detto, sto lavorando a un album a cui ho lavorato con grandissima libertà, anche mi sono preso più tempo del solito, e che uscirà comunque dopo l'estate, ma insomma stiamo qui dando registrazione adesso, e quindi anche quello mi fa star bene, molto. E ancora, cioè, comunque con una carriera come la tua, come ti approcci a fare della musica nuova? Quando sai di avere nel tuo repertorio dei pezzi, questo me lo sono sempre chiesto, cioè, quando sai di avere nel tuo repertorio dei pezzi storici, importantissimi, pesantissimi, dal punto di vista positivo, come ti approcci a fare della musica nuova? Allora, credo che l'unico metodo, perlomeno quello che conosco io, è scrivere tanto, nel senso che io poi butto via tanto, mi lascio prendere un po' dal gioco di scrivere canzoni, poi adesso devo dire che con la tecnologia degli ultimi anni mi diverto molto anche a fare le demo, per cui suono un po' tutto io, quindi anche capire un po' come cambiare gli arrangiamenti, come portarmi, sempre come sono ovviamente molto mio, ma come portarmi avanti con le canzoni già, e soprattutto scrivere velocemente, che quel tipo di urgenza sempre mi fa capire fino a che punto la canzone sta in piedi oppure no. E dopo si scegliono un po' da soli le canzoni, quelle che finiscono in questo album hanno fatto proprio questo processo, in mezzo a una selezione forse di una cinquantina, per dirti, no, e poi devo dirti che è veramente un bel modo di trascorrere il tempo, scrivere canzoni, quando ancora c'è la totale libertà di non pensare che fine faranno, perché poi è chiaro che poi cominciano a intervenire altri fattori, nel momento in cui dici ok, va nell'album, allora a quel punto fai caso a ogni dettaglio, quindi a ogni parola, sai che c'è una responsabilità che ti porti dietro, anche le scelte sonore, anche se sono diciamo così sempre fedeli al tuo mondo, comunque anche quelle insomma sono cose a cui tieni molto, per cui nel momento in cui sei meno libero diventi più, fra virgolette, più rompi i coglioni con te stesso, però anche quello diventa un buon processo. Beh, un bel processo, poi immagino che tu te le immagini anche dal vivo, quelle canzoni lì. E' la prima cosa che faccio. E' la subito, no? Cioè il primo pensiero è quello? Sì, sì, cominciamo a pensare che tipo di effetto possono produrre, e anche questo, allora avevo letto, anzi sentito una cosa molto interessante da Rick Rubin, che è uno dei più grandi produttori, no? Che ci siano, e che diceva una roba molto interessante, e cioè che la prima cosa che lui vuole provare a fare con gli artisti con cui lavora, è cercare di convincerli a cancellare l'ascoltatore immaginario, che abbiamo, che ci portiamo con noi. Quando tu scrivi la canzone, magari non nel momento in cui la stai scrivendo, ma immediatamente dopo, cominci a pensare, ma ti immagino una serie di persone che conosci, o che hai visto nelle prime file, e hai visto reagire in un certo modo a certe canzoni, e cominci a immaginare se quella canzone produrrà all'ascoltatore immaginario quell'emozione che ti sembra che possa muovergli. E lui ti dice toglilo? Va tolto. Va tolto. Che però non è così facile. Eh no, ci credo. Perché come ben sappiamo, se ti dico non pensare a una scena in questo momento, pensi solo a quella. Però andrebbe fatto, bisognerebbe cercare il più possibile di cancellare il famigerato ascoltatore immaginario. E tu, qual è il tuo pubblico? Quando tu pensi a queste cose, non dico che hai un profilo in mente. No, devo dire che, e mi dispiace per tutti quelli dietro. Che non ria, perché mi dico in avanti. Ovviamente io devo, come fotografia, e siccome per me, l'ho detto allo sfinimento, insomma, quello che conta in questo mestiere è prima o poi salire su un palcoscenico, e ovviamente i miei riferimenti sono le prime file. Le prime file oramai sono facce che conosco, perché non so come fanno, ma ci sono sempre. Beh, le prime file sono coloro che sono lì dalla mattina, che entrano, iniziano a correre, vanno lì davanti, e resistono lì per ore, ore, giorni. Sì, ma sempre. Sempre. Io li ammiro veramente, oltre che amarli con tutto il cuore, però li ammiro veramente tanto. E ovviamente è quasi impossibile non fare i conti con quelle facce, con quel tipo di reazione, con quel tipo anche di trasfigurazione a cui ogni tanto assisto, perché quando li vedi veramente lasciarsi prendere totalmente dell'emozione, proprio si sfigurano quasi, e lì diventa quasi commovente. Ma sicuro, anche perché poi i tuoi concerti sono questi, ho avuto la fortuna di assistere, ed è proprio quello, cioè è euforia con alcuni brani, incredibile, commozione con altri. Qual è quel momento che anche tu un po' aspetti della tua scaletta, o comunque del live, perché sai che ci sarà qualcosa di speciale più del resto? Allora, i due momenti che sempre mi travolgono da un punto di vista emotivo sono la lacrima silente, cioè se io vedo qualcuno a cui scende una lacrima ma non vuol far vedere niente, e quella roba lì, spesso mi spezza la voce, oppure ovviamente la famosa rumba, cioè quando praticamente con le varie trafalco realtà, urlando contro il cielo, balliamo sul mondo, vedi tutta la gente fare così, che è qualcosa che ha a che fare, secondo me, sempre, un po' con la celebrazione dello stare al mondo, se ci pensi. Io ho sempre pensato a che fare concerti, anzi assistere a un concerto, è l'occasione per fare qualcosa che tu non fai mai nella vita, cioè quando sei a un concerto tu ti permetti di stonare, ballare, urlare, commuoverti, abbracciare, nei casi limiti addirittura trombare, è successo anche quello, e tutto questo in mezzo a tutti gli altri, cioè non c'è un altro contenitore sociale, vabbè forse il calcio, ma non con questo tipo di continuità, per cui resta preziosa quell'esperienza, resta preziosa per me l'esperienza del vederla succedere, cioè per me resta sempre un grandissimo spettacolo quello a cui assisto. Beh, prima hai detto una cosa, insomma, quando commentavi il fatto non dell'essere tornato a faremo, hai detto mi sono preso il tempo che di questi tempi, scusa il gioco di parole, sembra una roba audace, no? In un momento in cui sembra che un po' il mondo della musica o comunque il momento in cui stiamo vivendo non ti dà il tempo di avere il tempo? No, soprattutto per me, nel senso che comunque non mi sono mai dato il tempo, io nei trent'anni precedenti al covid io praticamente ho prodotto una mole di roba impressionante, cioè pure troppo francamente, perché poi insomma mi sono mosso anche al di fuori delle canzoni e quindi ogni anno almeno c'era o un album o un film o una raccolta di racconti, quindi mi sono sempre dato una spiegazione a questa roba pensando che nei trent'anni precedenti in cui io, io ho cominciato trent'anni a fare questo mestiere, in cui ho fatto altri mestieri è come se avesse accumulato troppo, dopo dal trentesimo anno di vita in poi in cui me l'hanno consentito ho buttato fuori tutto pure troppo e no, a questo giro devo dire ho dedicato un tempo come non ho mai dedicato un album e mi è piaciuto molto farlo anche se so che sempre di più la musica poi una volta che esce ha tempi sempre più ridotti di attenzione perché questo vale un po' per come è cambiato il mondo ma questo non cambia niente rispetto al mio piacere dell'esserci stato sopra ok cioè quindi tu di quello che ti succede intorno ovviamente te ne accorgi lo vedi eccetera però tu continui a fare quello che secondo te è giusto per la tua musica sì da quello secondo me nessuno può prescindere comunque sia cioè poi è chiaro che ognuno fa i conti con il mondo che cambia vede e magari prende atto delle cose anche però penso che chiunque insomma immagino insomma chiunque deve essere fedele un po' al suo gusto se il tuo gusto ti dice il mio suono deve essere questo devi perseguire quello perché comunque ricordiamoci insomma che fare questo mestiere non è esercitare un mestiere ma è esercitare una passione e questo se abbiamo il culo di poterlo fare è giusto ricordarselo a me colpisce tanto del tuo percorso proprio quello che hai raccontato prima il fatto che poi tu hai avuto successo in un'età un po' più adulta sicuramente rispetto a quello che oggi siamo abituati a vedere ragazzi che già a 16, 17, 18 anni fanno cose o numeri incredibili che però poi non sempre durano magari nel tempo il tuo successo comunque il tuo momento è arrivato avevi 30 anni il primo album è uscito da 30 anni e come mai cioè nel senso qual è il motivo secondo te per cui è successo tutto questo ma perché sono tardivo in genere in diverse no no scherzo tardivo in diverse cose nella mia vita l'ho capito un po' nel tempo e pensa che io ho cominciato a suonare a fare musica insieme ad altre quindi ad avere un gruppo mio soltanto a 26 anni il mio primo concerto l'ho fatto la prima volta che sono salito su un palco avevo 27 anni e quell'esperienza lì è quella che mi ha come dire incantonato nel senso che una volta che ho provato che cosa si provava a stare su un palco io che comunque non ci avrei scommesso una lira sulla naturalezza che vivo invece una volta che salgo su un palco ho detto no io questa esperienza adesso la voglio rifare le più volte possibile e ora dopo ho smosso Maria Monti per riuscire ad avere il mio primo album prodotto a trovare il contratto con la casa discografica e poi devo dire che per l'epoca ho stato anche abbastanza fortunato perché nel giro di un paio d'anni andò tutto come doveva andare perché comunque nel senso tu hai iniziato proprio a prenderla in considerazione a quell'età lì a 26 non è che prima ci avevi provato l'hai proprio presa in considerazione in quel momento ho cominciato lì la prima volta che sono salito su un palco ho detto ecco questo è quello che devo fare della mia vita inizi i mestieri che hai fatto prima dunque io ho lavorato in campagna nel senso che io sono diplomato ragioniere quindi prima di trovare posto come ragioniere che ho fatto per 5 o 6 anni della mia vita prima di trovare posto ho lavorato in campagna quindi raccolta di mele pere vendemmia eccetera ho fatto un'estate il metalmeccanico quindi era una macchina che faceva gli stampi di plastica quindi un lavoro molto robotico io vedevo un tipo davanti a me che ascoltava la radio e cantichiava tutto il giorno facendo lo stesso movimento che facevo io ogni 20 secondi e lo invidiavo tantissimo dicevo ci vuole un certo carattere per avere quel tipo di forza nel fare questa cosa così noiosa tutto il giorno ed essere così comunque sereni e poi niente poi a un certo punto mi sono ritrovato addirittura a fare l'organizzatore di concerti ho lavorato per l'Arci Spettacoli di Reggio Emilia quindi praticamente ho visto dietro le quinte un po' anche cosa succedeva quel poco che l'ho fatto addirittura per un brevissimo periodo di tempo mi hanno pagato per fare il DJ dico questo perché io ho fatto esperienze di radio in un momento in cui comunque cioè le radio sono nate perché avendo per appunto soltanto 26 anni di vita a parte gli scherzi le radio libere sono nate lo dico per chi non lo sapesse da un punto di vista storico quando io avevo 15 anni e quando sono nate siccome l'FM era totalmente vuoto ah no vuoto vuoto bastava che con un trasmettitore da niente tu potevi coprire 50 60 70 km di raggio quindi spuntarono come funghi le radio e quindi io feci parte di quelle radio lì in cui trasmettevi per pura passione che erano incredibilmente affascinanti credo in quel periodo fu secondo me il corrispettivo di internet di quando usci veramente internet ecco lo stesso tipo di sentimento fu quando uscirono le radio libere è stata un'esperienza straordinaria poi tieni presente che allora ero veramente adolescente quindi lo vivo con grandissima tenerezza anche a quel periodo però per un certo periodo di tempo addirittura mi pagarono per farlo in una radio rock a titolo professionale quindi più o meno queste sono state le esperienze dopodiché è fortunatamente partita la rumba come dicevo prima però quanto questa cosa ti ha aiutato poi nel senso che poi la tua forza è stata sempre anche quella di raccontare quello che ti circonda di avere un occhio sui dettagli della vita delle persone e quindi aver fatto anche questo tipo di percorso probabilmente ha contribuito allora io penso che il contributo più grosso sia stato rispetto a non perdere la testa o perlomeno non perderla più di tanto secondo me quando ti capita il successo sei destinato a fare un po' di cagate cioè un po' ti scappano e devi fare i conti un po' con le opportunità nuove che ti si aprono con le responsabilità che hai con magari qualcuno a casa tutta una serie di aspetti insomma che un po' si sanno e se mi fosse capitato vent'anni avrei proprio perso la testa poi un pochino secondo me bisogna concedersi di diventare un po' stronzi nel senso che un po' stronzi lo si diventa dipende sempre la misura nel senso che poi bisogna vedere quanto ti tollerono gli altri quanto te la te la permettono questa stronzaggine e poi a un certo punto magari te ne accorgi e se puoi ci metti rimedio diciamo che aver fatto un mestiere in cui dovevo portare a casa la pagnotta quindi il vecchio milione di lire al mese milione e due mi ha insomma permesso secondo me di arrivare a questa esperienza con i piedi abbastanza per terra sì che poi appunto è la grande differenza anche di chi fa un percorso probabilmente di questo di questo genere no cioè quando tu vedi un po' i ragazzi oggi che cercano di fare un percorso come dire in qualche modo di lasciare il segno per un lungo periodo tu credi che anche oggi questa cosa sia possibile o ci sono ancora più distrazioni ancora più possibilità di di perdersi allora questo questo non lo so ovviamente davvero non lo so perché è talmente cambiato il modo di far circolare la musica non solo di produrla non solo di proporsi ma insomma ho la sensazione un po' in generale che che chi ci arriva comunque ci arriva sempre con una preparazione tecnica importante è una competizione talmente forte io quest'anno ho visto la finale di Sanremo con degli amici e sono rimasto colpito comunque dal fatto che ognuno anche di quelli insomma che io o non conoscevo o conoscevo poco avesse una confidenza così forte con per dirti la telecamera no? e pensavo questo guarda questo o questa ha vent'anni è nella finale di Sanremo che ha un certo peso comunque o avrà una certa ripercussione nella sua carriera sta cantando intonato ha una certa padronanza di se stesso o di se stessa e soprattutto guarda dritto in camera e io mi sono spiegato questa cosa magari col fatto che ovviamente sono sempre più sverginati dall'uso dei social e in qualche modo prendono confidenza attraverso questa cosa però è sicuramente qualcosa che noi non avevamo a disposizione cioè io ero molto più imbranato e avevo già molti anni più di loro quando ho cominciato nel molto più impacciato anche ogni volta che dovevo finire in televisione sì c'è una malizia in più sicuramente nel senso c'è più già saper stare davanti alla telecamera c'è sicuramente una grande confidenza con il lato entertainment ok quindi comunque hai guardato Sanremo quest'anno sì ok il tuo rapporto con la Kermess come viene chiamata ho sempre diciamo così una forma di solidarietà per loro perché comunque io fortunatamente non sono mai dovuto andare in gara a Sanremo sono stato ospite due volte ed è un inferno cioè nel senso che per come vivo io la musica la musica arrivi e c'è l'Ariston diventa una specie di fortino assediato da miliardi di media che sono anche sui tetti con gente che deve fotografare l'arrivo di chiunque e devo dire che questo tipo di pressione ho sempre pensato che non può fare bene la musica ma anche questo è un allenamento straordinario per chi invece dice no io ho il fegato lo stomaco e anche le balle di andare invece su quel palco e dimostrare che ci sono e so fare questo mestiere quindi hanno sempre avuto tutta la mia solidarietà io fortunatamente non ho mai dovuto andare in gara perché penso che mi sarei fatta veramente addosso davvero cioè l'avresti vissuta anche perché appunto poi l'impressione è questa che tu in qualche modo pur essendo una passami il termine un uomo un animale da palcoscenico ma in realtà poi hai una personalità anche molto più timida di quello che può sembrare appunto e anche per quello ma sicuramente sai un conto è come ospite e vai a fare le cose insomma che magari speri che piaccia anche al teatrino perché insomma poi alla fine quello che vedi tu non sono le persone a casa ma le persone in carne e ossa lì io ho sempre questo tipo di riferimento le persone in carne e ossa e quindi è chiaro perché se quando vai lì gli dai un tuo cavallo di battaglia che addirittura li fa alzare in piedi da quelle poltrone insomma ti senti meglio è difficile con una canzone che è in gara che è nuova sì poi sicuramente le pressioni sono anche aumentate perché hai cambiato tutto il modo di giudicare il tuo rapporto con i social qual è? cioè ti metti a guardare un po' le cose esce non so adesso c'è il singolo nuovo riderai il radio sta andando in giro sta andando è bello è buono tu vai a vedere anche quali sono i commenti? no zero non ti guardi niente no 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 ho gente che si occupa di nutrire i miei social per me ok e mi fanno sapere mi fanno sapere ovviamente come stanno andando le cose però non no non sono diventato mai un frequentatore di social beh a tutto te no nel senso che per alcuni casi è una fortuna non so se oggi un ragazzo che inizia oggi o comunque vuole fare un tipo di carriera può prescindere da questa cosa credo di no credo che chi comincia oggi debba essere sui social e debba essere capace di essere lui stesso produttore di contenuti per i social io ad esempio proprio questa roba non ce l'ho cioè a me non viene chiaro a me non viene da aprire il telefonino e dirti devo dire una roba perché vengo da un tanto da un carattere che è quello mio per cui quello che ti devo dire te lo dico attraverso le canzoni oppure attraverso un film oppure attraverso le altre cose perché è una cosa a cui penso molto bene è una cosa che non riesco ad evitare di dirti raccontarti il mio quotidiano è più non è da me insomma non mi interessa tanto perché non credo che interessi tanto no però interessa in musica come hai detto tu insomma la forza è sempre stata quella credo anche no di raccontare cioè mentre magari molti raccontano le città tu hai sempre raccontato anche un po' la provincia la vita di un certo tipo è stata naturale come cosa continuo vivere lì potevo solo raccontare ho sempre sai prima di avere la mia prima canzone cioè quella in cui ho detto no una canzone ce l'ho che era sogni di rock and roll penso un attimo il racconto di un sabato sera trascorso con gli amici quindi poi gente che dopo che era una sera in discoteca è riuscita a portare a casa quello che ha potuto poter portare a casa si avvia verso nessuna meta in autostrada mettono su un pezzo e fingono di fare il playback quindi quella è sogni di rock and roll che è un'esperienza ovviamente che vivevo diverse volte all'epoca ecco io prima di allora avevo scritto un sacco di fuffa cioè un sacco di pezzi in cui scimmiotavo un po' i cantatori e capivo che anche se avevo anche un linguaggio diciamo così più finto poetico più forbito però era proprio fuffa cioè nel momento in cui è venuto fuori i sogni di rock and roll nella sua semplicità ho capito anche la sostanza che c'era dentro e ho detto io questo posso fare io posso solo raccontare delle cose che ho vissuto o che ho visto vivere e mi sono sempre attenuto a questo principio ogni volta che ho scritto qualcosa ha funzionato ci sono poi dei riferimenti diventati culto dal bar Mario insomma cioè tu ci avresti cioè quando hai deciso che il bar Mario sarebbe diventato un riferimento in qualche modo ma non l'ho mai deciso nel senso che il bar Mario tra l'altro come luogo non è mai esistito è la galleria dei bar che ho frequentato è la galleria dei personaggi che vedevo ed è soprattutto la psicologia del frequentatore di bar di un certo periodo che mi piaceva raccontare perché era un'altra realtà che conoscevo molto bene frequentavo molto i bar adesso anche quelli sono abbastanza cambiati insomma adesso sono molto più di passaggio i bar però una volta erano proprio posti in cui specialmente quello che frequentavo di più in cui vedevi dal dodicenne al settantenne ammassati nello stesso posto c'erano tavolini per quasi un centinaio di persone di un paio di biliardi di un paio di biliardini e sentivi raccontare tutte le storie che contavano del paese non solo quelle di corna diciamo così passavano tutte di lì anche quando c'erano i famosi estrosi del paese che volevano finire nelle leggende raccontate nel bar quindi compivano le geste più assurde pur di essere raccontate pur di essere raccontate poi nel tempo un po' si è persa anche quella roba lì sì effettivamente è cambiato tanto da quel punto di vista anche se poi in alcune province le dinamiche un po' ci sono ancora uno magari è abituato alla città dove il vero e proprio bar quasi non esiste più magari in qualche provincia ancora c'è quando ti sei accorto lungo la strada che però le cose stavano iniziando a girare cioè qual è stato secondo te il momento un bel momento di svolta intendi per me? sì per te ah no ma è stato immediatamente nel senso che nel momento in cui è uscito il mio primo singolo che era balliamo sul mondo è successo il finimondo anche rime era ricordo ancora bene era l'estate del 1990 e io che avevo fatto le radio mi avviavo a fare il mio primo tour radio da intervistato certo non da intervistatore e ricordo che partivo gasatissimo la canzone stava andando molto forte nelle radio e quindi dicevo adesso vado vedrai parleremo del suono parleremo delle intenzioni parleremo di quello che c'è nella canzone o nelle canzoni dell'album perché poi all'epoca nel frattempo non era così rigida il fatto che c'era il pezzo il singolo e poi quell'altro dopo tre mesi o roba del genere lì era a qualcuna passava già anche altri pezzi dell'album c'era un'ottima aria ma era l'estate del 90 quindi Italia 90 quindi praticamente tutte le mie interviste vertevano su cosa ne pensavo del gioco di vicini come mai la crisi di vialli e soprattutto come mai l'esplosione di schillace ok già allora era già tutto influenzato ovviamente da beh no c'è da dire sai poi erano i mondiali fatti in Italia sì sì c'era un'attenzione particolare beh però che impressione avendo tu fatto la radio prima andare tu da ospite ho capito com'era il mainstream sì così era anche come erano le altre radio no vedevi le differenze la radio per te adesso è stato un mezzo l'hai raccontato anche già molto importante ci hai fatto un film che è diventato clamoroso io personalmente che ho cresciuto sognando la radio e faccio la radio Radio Freccia è un cult no è tra i film sicuramente da vedere è stato cioè quando tu hai pensato di fare un film hai subito pensato a questa cosa sì perché è una cosa irripetibile cioè quel cioè quel periodo quella apertura un po' a tutti cioè anche a ragazzini di 15 16 17 anni alla possibilità di poter dire quello che sentivano volevano potevano con mezzi di fortuna perché veramente chiunque poteva aprire una radio costava pochissimo poterlo fare cioè la prima radio di cui ho fatto parte era stata creata in un casolare di campagna da uno che aveva fatto l'istituto tecnico e il trasmettitore se l'era costruito lui e ti garantisco era in una morsa di fianco al tavolo con il filo che finiva sull'antenna e in quella situazione comunque si coprivano girevamo come dice anche il film girevamo con la macchina per vedere attorno alla provincia per vedere fino a che punto arrivava il segnale e lì segnavamo il territorio come fanno gli animali e quindi è stato naturale raccontare questo poi all'interno del film utilizzarlo per veicolare il film parla della seconda metà degli anni 70 e quindi in qualche modo c'era questa cosa incredibile della radio c'era anche il tema dell'eroina su cui c'era una pessima informazione chiunque era convinto di cominciare e poter smettere quando voleva e quindi c'è anche quello nel racconto ovviamente soprattutto della storia personale di Freccia ed è stato poi un caso di successo anche per gli attori che ci hanno partecipato cioè per Stefano Corsi è stato insomma il film che lo ha lanciato lui lì tu l'avevi scelto subito come funziona no la mia idea di di Freccia era in realtà da punto di vista fisico qualcuno di più diciamo così nervoso anche più malandato anche fisicamente più fragile diciamo così e quindi non lo immaginavo come lui poi a un certo punto viene a fare il provino e ricordo ancora insomma il provino doveva leggere la famosa sequenza dei credo e non appena ha letto ho detto ok sei tu perché la voce di Stefano lì avrebbe fatto le differenze devo dirti poi che Stefano fu enorme quando giravamo il film perché si mise proprio il film sulle spalle la performance fisica di Stefano in Radio Freccia è una performance clamorosa io quando mi capita di rivedere dei pezzi perché a volte lo ridanno in tv vedo veramente insomma quanto lui sia stato anche coraggioso in diverse situazioni all'interno del film perché poi tutto sommato lui si è prestato a farsi dirigere da uno che cominciava lì cioè io fino a quel momento non ero mai stato su un set se non sui set dei videoclip ma quando mi riprendevano quindi ho dovuto veramente studiare come un deficiente tutta la teoria tutta la teoria e i film che mi erano piaciuti per cercare poi di fare meno cazzate possibili nel momento in cui mi presentavo sul set perché il primo giorno di lavoro ricordo bene insomma sono arrivato senza aver dormito la notte e dovevo affrontare anche questo l'ho detto più di una volta insomma una diciamo di una troupe ovviamente di tecnici romani scafatissimi tutti pronti a dire ah questo sta fa do firmi in uno e il primo e l'ultimo quindi riuscire ad avere uno straccio d'autorevolezza con loro e anche con gli attori cioè era cioè io ho finto tantissimo di saperne di sentirmi sicuro in quello che facevo poi giorno dopo giorno invece le cose andavano meglio anche per me insomma ma proprio il primo giorno fu quasi tragico cioè hai cercato di acquistare cioè pian piano hai acquistato la fiducia anche di chi faceva già questo lavoro soprattutto anche perché sai tutta la teoria del mondo non vale la pratica di quello che fai sul set tu devi tenere presente che se fai regista a un certo punto ti ritrovi una ventina di persone che prima o poi vengono a dirti sì ma questo come lo vuoi questo cosa vuoi cioè che costume vuoi per l'attrice la comparsa dove vuoi che passi insomma quindi e c'è proprio un momento in cui tu non ne hai più almeno in quel momento non ne hai più e quindi l'unica cosa che fai è lanciare testa croce e poi è andata bene perché ad esempio nel caso di Radio Freccia è stato subito cioè insomma ha avuto subito l'effetto che poi ha avuto anche negli anni perché poi uno di quei film come dicevo prima culto cioè che più è andato avanti il tempo più è diventato oh devi vederlo se non l'hai ancora visto se ne parli Radio Freccia è una delle cose di cui sono più orgogliosi in assoluta beh è stato è stato forte è stato davvero forte ancora oggi ispira secondo me tante persone immagino che questa cosa ti succeda anche quando devi organizzare il live cioè che le persone vengono a te e ti dicono ok qualcosa succede qualche cosa facciamo qualche cosa come sono cambiati nel corso degli anni i tuoi live allora beh sono cambiati nel senso che ho il mio manager che ha sempre smane di gigantismo per cui a volte devo tenerlo fermo a lui piacciono le dimensioni le dimensioni contano in questo caso secondo me non così tanto però va bene poi è ovvio che c'è stato nell'arco del tempo un altro tipo di attenzione verso quello che dovevano fare gli schermi di base diciamo così la cosa che più mi diverte è sempre stata dovermi occupare della musica e farlo con una band io così sono partito io fin dall'inizio mi sono detto nella mia testa io voglio essere un cantautore che ha il suono di una band e quindi da allora ho sempre avuto comunque una band non un gruppo di musicisti messi insieme e quella è sempre la parte insomma che mi piace di più che è quella della preparazione per l'appunto degli arrangiamenti quanto li vuoi cambiare come li vuoi riproporre se vuoi mettere delle intro delle outro delle parti strumentali che ti piacciono sempre pensando al piacere che possono dare o meno intanto quelle delle prime file e di conseguenza anche gli altri e per quello che riguarda il discorso degli schermi sai allora sempre meno credo al discorso della narrativa attraverso gli schermi cioè una storia che viene raccontata negli schermi mentre la tua canzone sta parlando di altri che è un po' il problema che ha sempre avuto anche il videoclip io tante volte mi dicevo ma senti ma tante volte sono i videoclip bellissimi che raccontano delle storie che non hanno niente a che vedere con la canzone ma essendo il videoclip un fatto meramente promozionale perché a quel punto non svolge la sua funzione io a volte tendo ad essere un po' pratico e sugli schermi a me piace sempre di più che ci sia in realtà un diciamo così un contributo che aiuti il lavoro che fanno le luci quindi in qualche modo un impatto emotivo che non abbia per forza uno svolgimento narrativo non per forza una storia che viene raccontata o no o ancora peggio qualcosa che sia di da scalico cioè che stia che provi a raccontare quello che sta dicendo la canzone di volta in volta ci troviamo con i responsabili e troviamo sempre una chiave sì ed è insomma è bello vedere quanti ragionamenti ci stanno dietro anche solo sulle luci o su quello che hai raccontato adesso sugli schermi ed è poi la chiave anche del successo della musica dal vivo come dicevi anche tu all'inizio è chiaramente la tua la tua chicca no? tu hai iniziato a fare gli stadi quando insomma cos'era 95 una cosa del genere 97 97 furono il primo stadio fu San Siro e quest'anno facciamo il tredicesimo San Siro come anche il tredicesimo olimpico cioè e iniziare a farli in quegli anni lì è un po' diverso rispetto era un po' diverso rispetto ad oggi sì sì all'epoca era veramente un risultato che nessuno si aspettava io in testa fu una scommessa del mio amico manager che cito spesso e volentieri perché così comunque capisce che sono io a far da manager lui che si chiama Maioli e che all'epoca disse adesso adesso andiamo a far San Siro e ho detto no guarda che San Siro l'ha già fatto e già lì ci giocano a calcio dentro non hai capito andiamo a fare io ovviamente lo sfanculai invece ebbe ragione vabbè quindi comunque tu avevi il timore di dire una cosa troppo grossa sì pensavo che fosse troppo un passo troppo azzardato e cosa ti ricordi cosa hai provato prima di salire su quel palco che non capivo più niente in realtà la cosa buffissima perché poi furono due le serate addirittura quella prima volta e la cosa buffissima del proprio del primo pezzo fu che arrivai sul palco ero talmente bisognoso di liberare la tensione creata che diedi una sorta di sbracciata sulla chitarra come primo colpo per il primo accordo e mi tagliai con la corda la punta del pollice che voleva dire niente di che però purtroppo venne fuori il sangue io avevo una canotta bianca sotto una una camicia non so di che colore e ovviamente immediatamente la canotta bianca si macchiò di sangue passarono un paio di minuti io avevo il mio amico Maioli sei pieno di sangue scendi vaffaculo riuscivo a spiegargli cos'era successo e quindi quello fu il mio primo pezzo a San Siro beh storico sicuramente storico e l'altra cosa che ricordo è che mi provarono la pressione alla fine ed era bassissima avevo speso tutto e godendomela però beh anche perché poi io penso sempre quando sei sull'Ik tutta quell'adrenalina pazzesca poi l'effetto rebound come si dice il giorno dopo due giorni dopo e quello è uno dei problemi da gestire cioè come fai a gestire tutta quella luce e tutta quell'energia sapendo che il giorno dopo si spegne tutto cioè è sempre stato quello anche un'altra cosa per me interessante da raccontare ho provato a farlo se ci penso un attimo c'è un album che si chiama Su e Giù da un palco c'è una canzone che si chiama Tra palco e realtà è un meccanismo insomma anche interessante da provare a capire e lì tu hai accusato il colpo qualche volta beh allora sempre io oggi ho consultato il mio amico Ligapedia che è praticamente uno che sa di me molto più di me stesso tanto lo vuoi dirmi allora sappi che San Siro e l'Olimpico saranno per la tredicesima volta di entrambi mi ha detto che ho fatto 822 concerti fino adesso 822 concerti hanno occupato buona parte delle mie giornate dopo è chiaro che comunque dopo ognuno di questi 822 show c'era sempre la giornata invece dopo in cui sembra tutto molto più non è solo più calmo sembra anche più buio non è facile gestire ovviamente con il tempo sì però io mi sono ritrovato spesso a dire ma perché non devo succedermi tutte le sere questa cosa perché non devo fare un concerto è come una droga alla fine sì è una forma per me è sicuramente una forma di dipendenza sono tossico sì però diciamo di una buona sostanza in questo caso non fa non fa male acqua acqua assolutamente non è l'ambrusco ecco diciamo avrei potuto avremmo potuto ma abbiamo preferito l'acqua ma però al di là del palco ti è capitato di avere cioè quando la cosa che sto imparando anche con queste chiacchierate così potenti è proprio che soprattutto nelle carriere lunghe quelle più importanti è un po' una montagna russa cioè ci sono dei grandi momenti di up ma anche dei momenti difficili che ci sono sempre mi domando se ci sono stati anche nel tuo caso ci sono stati il più tosto per me è stato con il terzo album sì sì perché allora per l'appunto come ti dicevo con il primo album le cose andarono subito a mille con il secondo album andarono ancora meglio quindi pensavi di aver superato il fatidico secondo album che è quello che si dice di cui si viene o si va quindi pensavo fosse così e poi esce il terzo album che era sopravvissuto e sopravvivente un album un po' scuro in cui in qualche modo evidentemente mi sono fatto prendere un po' la mano anche da un punto di vista sonoro e in cui la gente non riconosceva più in realtà quello che avevo fatto nei due album precedenti per cui noi eravamo in giro in tour e vedevamo sempre di più calare il numero di presenze avevamo da poco fatto i primi forum pieni per dirti e mi ritrovai a un certo punto di fronte a un centinaio di persone in un'occasione al sud e lì avevo detto ok allora il mio fatidico secondo album in realtà è il terzo quindi sono stato una meteora saluto già il pubblico eccetera fortunatamente invece poi le cose sono cambiate grazie soprattutto a un pezzo ironico perché quello non fu un momento facile e in un momento così difficile mi venne fuori una canzone che era a che ora la fine del mondo c'era un pezzo dei rem che mi piaceva fare per i fatti miei da sempre quindi era nato come pezzo tuo personale e a un certo punto provo a mettere un testo adattando ovviamente alla melodia e alla canzone un testo che facesse un po' di ironia all'epoca la televisione contava veramente tanto sul fatto che supponiamo che fra 24 ore finisca tutto quanto sai per certo che finisce il mondo in quanti fanno tutto quello che non hanno fatto per una vita e in quanti invece stanno a guardare la diretta televisiva perché c'è qualcuno che fa la diretta televisiva fino in fondo e ne è uscito un pezzo ironico che mi ha tirato fuori per così dire dalla buca in cui ero finito e dopo da lì le cose hanno ripreso anzi sono andate ancora molto meglio beh sì poi non sono venuti fuori tanti pezzi clamorosi anche successivamente ma in generale il momento tu ti ricordi dove è scritto e quando è scritto le canzoni più importanti immagino di sì non so se tutte le canzoni però non so un certe notti tu ti ricordi quando è nata una sì certe noti mi ricordo che è nata di pomeriggio c'era certi pomeriggi in realtà e e nacque anche un quasi un po' come una sfida nel senso che come sempre si viene facilmente bollati no? tu lo sai benissimo che spesso servono due o tre aggettivi per dire chi sei cosa fai eccetera serve perché siamo in tanti dobbiamo essere catalogati specialmente dai dai giornalisti no? e una delle cose che giravano un po' di più su di me è ma sì ma scrive le canzoni sempre su pochi accordi per cui adesso scrivo una canzone in cui uso tutti gli accordi di me cioè non ne mancherà neanche una vediamo se se ne accorgono e quindi giocherai anche su questa roba e venne fuori certe notti e la e la cosa paradossale fu che ricordo ancora quando uscì quella canzone ancora una volta un giornalista disse liga blu e c'è la canzone è bella ma ancora una volta è sui soliti due accordi tac e quindi nasce come una cioè un pezzo così clamoroso nasce come una sì poi in realtà ovviamente c'era molto altro però un buddista musicale c'era dietro questa intenzione pensate che roba e poi è diventata insomma la canzone che è diventata poi faceva parte di buon compleanno Elvis cioè personalmente adesso subentra un po' il fattore emotivo per me quella è stata un po' perché ero piccolino quando è uscita mi ha proprio accompagnato ed è un album è stato un album incredibile e anche non so poi le tue passioni anche cerchi di portarle dentro la musica ero in soggezione perché lì vicino a una maglia che io ho messo che ogni tanto causa degli 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 piccoli delle discussioni si parla si finisce a parlare di sport di calcio tu ovviamente sei un grande tifoso dell'Inter e hai dedicato anche una canzone cioè Una vita da mediano è un'altra canzone che in realtà è dedicata a una persona però è una in cui poi tanta gente in qualche modo si riconosce perché è la vita perché lo sport è la vita in tanti casi è partito tutto da lì anche per te sì Una vita da mediano era ecco ad esempio mi dai la possibilità di fare un gancio guarda allora Buon compleanno Elvis sì fu un album che scatenò mille robe diverse a cui non ero preparato per cui ebbe anche una piccola crisi perché quel tipo di successo era un tipo di successo che non sapevo che cosa si portasse dietro quindi mi venne da scrivere una canzone in cui in realtà io capivo che mi sentivo in colpa per tutto quel successo e quindi è come se volessi chiedere scusa dicendo scusate sì tutto questo però sappiate che io sono lì corro come una formichina in mezzo al campo e come qualsiasi mediano che ci rispetti sono lì comunque per impostare ma anche per contrastare quindi c'è il doppio ruolo e come ogni mediano sono l'ultimo ad accettare la sconfitta perché secondo me il mediano fra tutti i ruoli in campo è l'ultimo che accetta di perdere la partita poi in realtà non è che mi sento così tanto così ma in quel momento avevo bisogno di dire questa cosa e Oriali che tra l'altro vorrei ricordare ha lo splendido pregio di fare rima con Mondiali per un musicista perché scrive canzoni mi servì molto però se uno dovesse rivedere la finale contro la Germania Italia-Germania in cui lui vinse il Mondiale in realtà nella parte finale nel secondo tempo lui quasi lui tocca pochissimi palloni ma si rende utile frapponendosi fra l'avversario e la palla andando comunque quindi a perdere tempo oppure guadagnando punizioni era sfinito e anche in quello c'è anche in quel tipo di spirito di sacrificio c'è sia Oriali che quello che dice un po' quella canzone e quindi come è andato quando uno scrive una canzone dove parla di un'altra persona la fai e dopo gli dici sai che ho scritto in realtà non gli ho detto niente ma poi ho capito quanto fosse orgoglioso lui e ci siamo incontrati più di una volta siamo amici praticamente lo sportivo su di te che effetto fa tu che sei un mito per tantissime persone hai dei miti sportivi immagina ti posso dire che mentre facevo il mio primo San Siro al di là del fatto che fossi fuori di me però il pensiero mi è venuto fuori più di una volta fra 15 giorni Ronaldo comincerà a giocare qui perché era l'estate in cui Ronaldo venne acquistato da Moratti e quindi continuavo a pensare a quel campo vedevo le zone le aree e immaginavo i gol che avrebbe fatto lì dentro vedi che comunque è difficile non pensare tu hai giocato a calcio no? io ho giocato a calcio con sono addirittura riuscito a giocare una stagione in promozione ma era un altro mondo anche quello perché i miei mezzi tecnici sono molto limitati ed ero riuscito ad arrivare in promozione semplicemente perché all'epoca ero il 2 allora una volta ad ogni numero corrispondeva un ruolo molto preciso e il 2 era il terzino destro che in genere mancava la seconda punta che in genere era l'ala sinistra il 2 che stava sull'11 quindi il mio ruolo era proprio quello di cercare di annullare l'avversario piuttosto che ovviamente di contribuire e quindi in quello potevo addirittura arrivare a giocare in promozione però poi alla fine la realtà è che non avevo possibilità a tecnici e proprio e da tifoso la tua vita com'è? vai spesso lo sta prima vabbè adesso non ti chiedo niente sulla finale di Champions che sta arrivando non ti chiederò assolutamente niente perché siamo io pur ti fanno un'altra squadra rispetto alla scaramanzia però quest'anno come l'hai vissuto in generale e soprattutto prima mi ha fatto impressione stavamo parlando della precedente semifinale di Champions che anche lì hai preferito viverla in un modo la precedente finale sì allora no stavo dicendo che nonostante la mia età sì e alla fine poi ho visto vincere la Champions League dalla mia squadra soltanto una volta perché quando vincevo la grande Inter ero troppo piccolo e quella volta decisi di fare una roba padre e figlio cercando di corrompere per sempre mio figlio fare in modo che siccome avevo avuto per tutte le elementari mio figlio aveva 12 anni all'epoca allora bidelli insegnanti che provavano a regalargli i magli della Juve del Milan perché sapevano è certo Caroni e quindi niente decisi di fare questa cosa e poi l'ho detto più di una volta a lui non piace tantissimo quello di dica ma insomma è la verità perché è curiosa finale Bayern-Inter secondo tempo lui si addormenta quest'anno ci sarà comunque la vendetta sì nel senso che comunque ancora una volta vedrò la partita con lui adesso ha 25 anni non si addormenterà ma magari se serve lo faccio addormentare così nel dubbio non si sa mai ma com'è adesso bisognerebbe chiederlo a lui ma com'è essere il figlio di Ligabue secondo te tu ti sei mai messo in quei panni lì dunque la strada allora mio figlio è intanto è un eccellente batterista talmente eccellente non lo dico come padre orgoglioso ma semplicemente perché il produttore del mio album che è Barbacci che è uno molto rognoso sulla scelta dei batteristi ha scelto lui a fare questo album quindi questo album che uscirà per appunto a settembre che si chiama Dedicato a noi vede alla batteria in tutti i pezzi mio figlio e uno anche questo l'ho detto diverse volte che è un orecchio musicale molto migliore del mio suona benissimo diversi strumenti sa anche produrre nel senso che ha prodotto l'album di un del mio vecchio gruppo i clandestino che si è riunito in occasione della morte di uno dei loro componenti e hanno fatto un album apposta e l'ha prodotto lui poi come sia andrebbe come sia essere mio figlio andrebbe un po' chiesto a lui a volte ho diciamo così un po' di pensieri sul fatto che siccome è figlio comunque di una coppia separata soprattutto è cresciuto con sua madre però è una fase in cui ci frequentiamo molto anche proprio grazie al fatto che stiamo facendo l'album insieme e non lo so lo vedo molto bene spero insomma che non soffra più di tanto questa poi ha scelto comunque di fare la musica quindi quella passione lì sei riuscito a trasmettere soprattutto di non cantare ah ok cioè di non cantare perché gliel'hai c'è nel senso no l'ha scelto lui in qualche modo così forse anche un modo sano anche di non è chiaro che lì nel momento in cui dovesse cominciare a cantare viene immediatamente messo in confronto comunque mi ha nel senso per quanto riguarda la vita privata ad esempio sei sempre stato molto riservato nel senso sei sempre tenuto divise le cose però mi ha colpito che in passato anche diciamo in precedenza cioè a un periodo adesso dove ci sono i social network e quindi tu comunichi ogni cosa scrivi ogni cosa ci tenevi sempre a comunicare le cose ai tuoi fan a chi ti segue a chi ti ascolta quindi quando ci sono stati dei momenti importanti della tua vita ci tenevi a essere tu in prima persona a raccontarlo invece che lasciare le cose quello l'ho fatto in momenti in cui i social non erano neanche nell'idea del cosmo e soprattutto quando ho comunicato insomma dalla mia separazione ma credo di averlo fatto perché volevo cercare di evitare che insomma che le voci partissero dai giornali insomma in qualche modo venissero e quindi anche le interpretazioni successive per forza fossero figlie di quello che dicevano i giornali ho detto francamente quello che era successo e dopodiché ognuno si traeva la conclusione che voleva se voleva ma quella è stata forse la volta più clamorosa in cui l'ho fatto mi sembrava giusto anche perché è successo da un certo momento in poi che io ho capito che fra me e chi mi seguiva era nato un rapporto di fiducia veramente importante cioè loro avevano deciso di fidarsi di me dopo magari un po' di anni in cui si mantenevano un margine ancora di dubbio e a quel punto questo ha comportato ancora una responsabilità maggiore perché io ovviamente non posso che fidarmi di loro perché ho bisogno di loro e il fatto che loro si fidino di me abbiano cominciato a fidarsi di me ha fatto sì che ancora di più dovesse corrispondere insomma un po' anche a quello che si aspettavano da me poi è chiaro che la mia vita è la mia vita e quindi le mie vite le devo fare liberamente è comunque un rapporto a cui tieni e a cui insomma gli hai dato un rispetto non scontato direi no direi tutt'altro esatto è stata una roba credo che insomma sono quelle cose che poi rafforzano e che creano un pubblico una famiglia come poi nel tuo caso e nel l'impressione appunto come ti dicevo è che tu ovviamente hai le tue passioni le tue cose eccetera sei molto riservato non ti si vede spesso in tanti contesti eccetera adesso sarai in un contesto molto bello di musica dal vivo per quello che è successo insomma nell'ultimo periodo quindi parteciperai al concerto che si terrà insomma per aiutare la Romagna e tutto quello che è successo e anche perché qualche anno fa l'avevi organizzato proprio tu per l'Emilia sì allora no organizzato io no però quando ci fu il terremoto undici anni fa siccome Reggio era uno degli epicentri e mi arrivarono un sacco di chiamate da colleghi amici che dicevano senti qualunque cosa tu deciderai di fare io ci sarò ovviamente io che non faccio l'organizzatore dei concerti spostai il pallino sul sempre il mio famigerato amico manager e per cui venne abbastanza naturale mettere insieme campo volo e tutta una serie di cose Italia Lossa Emilia fu un'esperienza meravigliosa cioè ancora adesso io ricordo bene l'atmosfera che c'era fra tutti i cantanti che decisero di partecipare quella sera è un'atmosfera bellissima nel backstage fra la gente che partecipò i tecnici stessi e devo dire con tutti gli ego messi fuori da lì fu veramente impressionante questa questa abnegazione addirittura a questo giro gli organizzatori di Italia Lossa Romagna sono comunque gli organizzatori di Italia Lossa Emilia io non ho insomma mi hanno chiesto di fare parte però proprio non c'entro assolutamente niente con quello che sarà chi sono i tuoi amici nella nella musica ma allora io continuo a vivere un po' da orso nella mia correggio per cui sono in realtà cioè sono un passo di lì e devi venire a posto in realtà nessuno passa di lì non è proprio di strada correggio però insomma ho sempre insomma fra Lorenzo Piero con cui facemola non nemmeno mai più se parliamo di chi non fa più musica anzi anche se ha ripreso a farla l'anno scorso sicuramente Guccini con cui un rapporto di vecchia data con De Gregorio un ottimo rapporto ogni tanto ci sentiamo e ci vediamo ogni tanto mi sento anche con Biaggio ci ripromettiamo spesso e volentieri di fare una cena nello stesso studio in cui abbiamo registrato album diversi sono questi sono quelli che mi vengono in mente poi c'è un ottimo rapporto con Elisa con cui ho collaborato molto c'è grande rispetto ovviamente per la tua figura hai notato ci sono dei ragazzi delle nuove generazioni che hai magari incontrato che ti hanno colpito particolarmente o che loro hanno dimostrato nei tuoi confronti insomma un certo tipo di rispetto allora l'ultimo della diciamo della fila che è il primo che mi viene in mente è Gazzelle perché lo invitammo per appunto al mio concerto che facciamo a Campovolo per i 30 anni io avevo visto un suo post sull'amore conta aveva fatto a voce piano quel pezzo mi piaceva molto il modo in cui la faceva quindi l'ho invitato è venuto ed è stata l'ultima delle cose che mi viene in mente dopodiché no c'è allora sono in tanti devo dire io sono talmente tanti quelli che adesso fanno musica che io sono un po' disorientato cioè nel senso che per me è un po' difficile veramente un po' anche seguire quello che sta capitando non sono abituato e sono mi sono un po' impigrito a lasciare che sia un po' l'algoritmo a scegliere per me nel senso che ascolto i consigli che mi dà la piattaforma il venerdì ok quindi anche lì sono cose che insomma vanno un po' di palo in frasca però ci sono devo dire specialmente per quello che riguarda il discorso dei testi sono molto colpito da una serie di cantautori veri e propri che raccontano molto bene il quotidiano ecco quello mi colpisce abbastanza adesso però se dovesse fare non mi faccio casino però ho capito capito diciamo il genere di tipologia di musica che c'è che c'è oggi un'ultima cosa sul live hai citato Campovolo Campovolo cioè credo che il primo sia stata una roba incredibile è rimasta per 12 anni mi sembra il live con il più alto numero di spettatori paganti una cosa pazzesca in Europa in Europa in tutta Europa quando tu sapevi come sei arrivato lì quando tu vedi quella distesa di gente beh no la vedi tutta ok tranne che nell'arena nuova cioè adesso l'arena nuova RCF è stata costruita con questa pendenza per cui una specie di collinetta e invece adesso i 100.000 riesci a vederli tu hai chiesto tu gli hai detto scusate mi li mettete un po' più in su gli ultimi che ho bisogno di vederli magari non sembra ma non ho questo potere il primo Campovolo vale un po' il discorso del primo San Siro un'altra scommessa di quello che come vedi ci becca il mio amico Claudio Maioli che con cui facciamo un patto di sangue 35 anni fa lui era commesso alla Cop serviva lavorava negli scomparti di un supermercato però aveva la faccia tosta giusta un sogno capace di portare a termine ci siamo messi insieme professionalmente lì eravamo già amici e anche Campovolo fu una sua scommessa a un certo punto io avevo la storia è questa io avevo l'album mio più personale di sempre che non a caso si chiama nome e cognome in cui raccontavo una fase della mia vita molto travagliata mi ero separato da mia moglie c'era una nuova relazione era nata una nuova figlia avevo perso mio padre da poco avevo perso anche un cugino che per me era un fratello a cui dedicai una canzone che si chiama letteraggi Ken in quell'album e io dissi a Maioli senti questo album è talmente personale che lo voglio presentare a casa nostra e lui un giorno venne con la planimetria di Campovolo e disse beh facciamolo qui ho detto ma scusa perché non lo facciamo allora in tutte Emilia Romagna prendi tutto lo spazio che vuoi ho detto i contenuti sarebbero piuttosto intimi e lui fa hai ragione intanto fai questo concerto poi vediamo pensiamo alla regione e quindi successe questa cosa ma che sorprese tutti qua nessuno al mondo si aspettava che sarebbe capitato quello successo il primo Campovolo noi per primi però deve essere pazzesco in un momento quanto è stato importante avere lo stesso manager per tutti questi anni cioè in un momento in cui i rapporti e le relazioni anche sul lavoro sono tutte un po' particolari diciamo allora sembrerà stupidino ma veramente noi siamo partiti con un patto di amicizia che è diventato un patto di sangue cioè il famoso concerto primo concerto che ho fatto di cui ti parlavo fu un concerto in cui nessuno mi riconobbe io effettivamente sono timido di indole sul palco no e quel giorno di fronte a un centinaio di amici in un piccolo circolo culturale di Correggio io vado sul palco e urlo i miei sentimenti i miei pensieri le cose che credevo importanti attraverso le canzoni che nessuno conosceva e alla fine i miei amici vennero da me e mi dissero esci da quel corpo immediatamente come fai a essere tu mi pensavano posseduto e Maiole mi disse adesso io e te facciamo un patto col sangue ho detto facciamo così lo facciamo se tu mi prometti di farmi fare il maggior numero possibile di questo tipo di esperienze e da allora in qualche modo questa che è un'amicizia che è stata messa alla prova da tantissime cose per voi questo mestiere ha anche molti aspetti difficili dura dura come vedi ancora adesso è qua in zona oppure si starà facendo l'ennesima paglia della giornata che si fa tre pacchetti di malboro al giorno però insomma siamo amici da lunghissima data ci siamo sempre fidati tantissimo l'uno dell'altro per i relativi aspetti e continuiamo a tenere botte mamma mia penso che questo sia ma in generale la tua storia la tua carriera sono contento di aver fatto di fare questa chiacchierata proprio perché credo che sia un segnale di speranza non so come dire cioè hai dei valori ben precisi che racconti che trasmetti anche questo concetto è veramente figo e insomma come dire penso che a molti appassionati farà dire si può fare cioè questa cosa qui si può fare cioè tu avresti pensato io lo auguro all'inizio beh che la tua carriera sarebbe stata questa cioè che ancora oggi adesso stiamo parlando di live di quest'estate che sarà qualcosa di super no no assolutamente infatti non è un caso no io non avevo nessuna idea di che cosa sarebbe capitato quando ho cominciato come ti dicevo sì certo però non è un caso che sono arrivato a scrivere una canzone che ho pubblicato prima di fare l'ultimo campovolo perché volevo che qualcuno la cantasse con me in cui dico una roba che nessuno dice mai è non cambierei questa vita con nessun altro guarda ci vuole comunque del fegato dirla quella roba lì però è un pensiero che finalmente è arrivato dobbiamo anche essere capaci di non dare tutto per scontato dobbiamo essere capaci di vedere veramente come stanno le cose e facendo i conti con tutto con tutto quello che mi riguarda mi è venuto proprio da usare questo titolo addirittura per quella canzone perché è incredibilmente efficace un'ultima cosa è una curiosità poi vedete se vuoi risponermi o no perché poi in generale in questa epoca si creano sempre cioè non siete mai voi artisti protagonisti di quello che succede ma è sempre tutto quello che si mettono che mettono intorno e come dire lungo la strada si cercano sempre di trovare ognuno ha i propri idoli e cerca anche a volte di metterli l'uno contro l'altro che però io da quello che ho visto da fuori da spettatore non mi è mai sembrata che questa cosa fosse così mi riferisco a Vasco quindi un altro grande musicista un artista italiano come vivi tu da dentro come hai vissuto quel periodo allora non so bene cioè immagino come sia capitato io ho sempre avuto grande rispetto nei suoi confronti tieni presente che lui a sua volta viene da una delle radio di cui ti parlavo prima infatti che era appunto radio che io ascoltavo e lui all'epoca faceva delle trasmissioni sul soul sulla musica dance e roba del genere e già all'epoca ricordo che comunque sembrava una star cioè nel senso che gli altri parlavano di lui come fosse una star ma ancora non scriveva io ho sempre pensato che quando tu hai quel tipo di ascendente sulla gente come lui ha al punto che in qualche modo la gente veramente ti vede un po' come un po' come un maestro di vita cioè tu hai non solo diritto ma hai il dovere di avere tutto questo tipo di rispetto io l'ho sempre rispettato moltissimo dopodiché sai si è messa di mezzo in mezzo un pochino la competizione ovviamente rinfocolata un po' da tutti quanti cioè giornali fan eccetera sembra sempre che però siano gli altri in qualche modo io personalmente non ho problemi con lui francamente credo che però quello che si è creato abbia abbia fatto sì che noi siamo comunque distanti non è che noi ci sentiamo mai non è che ci vediamo ci siamo incrociati pochissime volte nella nostra storia in maniera molto occasionale e e niente insomma questo è chiaro che insomma per l'appunto quando insomma se gara deve essere insomma uno non è che dice voglio sempre partire come ultimo voglio sempre arrivare secondo quindi se c'è la gara a quel punto che tu abbia scelto o no anche tu a quel punto te la vuoi giocare ma ho sempre odiato questo concetto cioè nel senso che comunque ho sempre pensato che la musica come fai a pensarla come gara e a quel punto sai il famoso discorso chi è il numero uno e chi è il numero uno dipende da da quello che decide uno spettatore singolo piuttosto che chi fa più numeri eccetera l'ho sempre trovata molto fastidiosa ma non l'ho scelta io certo no no ma questo è chiaro e anzi ti ringrazio per averlo raccontato anche perché poi alla fine in questo caso ci guadagniamo noi che ascoltiamo sempre più musica andiamo sempre più concerti viviamo sempre più cose che stai creando quello invece è proprio quello che io l'ho sempre ho sempre consigliato siccome se io esco da queste cose il famoso concetto ma è meglio i Beatles o i Rolling Stones ma minchia ma tutte e due ma perché devo rinunciare a qualche cosa insomma godetevi la bella musica da chiunque venga io penso di esservi goduto questa chiacchierata tantissimo e spero anche le persone che ci siano ascoltate quindi ti ringrazio un casino è stata veramente preziosa e a questo punto mi hai fatto venire voglia di andare subito ad ascoltarti dal vivo quindi grazie a tante sei stato molto gentile è stato molto bello anche per me grazie davvero Luciano Ligabù è passato dal basement grazie il tuo pubblico fa molto più casino di questo audio dipende dipende grazie ciao grazie